Potrebbero dare finalmente i loro frutti le proteste dei pendolari dell'Alta Padovana Eppols. Da quanto emerso negli ultimi incontri tra il direttore regionale di Tren Italia, Tiziano Baggio, e il portavoce dei viaggiatori Stefano Miotti, le intenzioni sarebbero quelle di rafforzare la linea Bassano-Padova e adottare alcune modifiche migliorative per le linee Belluno-Montebelluno-Padova e Treviso-Padova. Una proposta che potrebbe rispondere così almeno in parte alle richieste avanzate da tempo dai pendolari ad iniziare dalla presenza di un'autocorsa sostitutiva che partendo da Bassano arrivi alle 6.40 a Campo San Piero in tempo per la coincidenza con il treno delle 6.50 diretto a Padova, fondamentale per soddisfare le esigenze dei studenti e lavoratori. E ancora, i viaggiatori chiedono ad esempio di avere un autobus che colleghi Campo San Piero a Bassano nei giorni feriali in coincidenza con i treni in arrivo da Padova delle 20.07 e 21.25, come la domenica un treno che parte alle 6.40 da Bassano diretto a Padova. Ma le richieste dei pendolari non si limitano a un aumento nel numero delle corse. Tra le stanze, ad esempio, vi è anche quella di treni composti da 6 carrozze nelle fasce orarie più frequentate, almeno nel periodo scolastico.